Mi chiamo Renato Bardozzi, sono venuto a Monaco la prima volta del 1949 e poi sono venuto per lavorare nel 1953, ho lasciato la mia famiglia che abitava a Giurigo in Svizzera, dunque ho la nacionalità in Svizzera del mio papà che è nato a Giurigo, però anche lui è figlio di migranti italiani e la mia mamma è bergamasqua, dunque il sangue sarebbe italiano, col passaporto svizzero, però chi è che mi ha dato il pane perché sono venuto a vent'anni a Monaco, poi è stato a Monaco e devo tutta la mia vita, la mia carriera che ho cominciato come muratore e poi finito come piccolo impresario di costruzione a Monaco. Ho vissuto tante belle cose che cercherò anche a raccontare perché sono arrivato, credo, al momento favorito dove da ieri il principe di Avanti è arrivato al potere e siccome che lui ha tutto costruito il nuovo Monte Carlo io ho potuto seguire tutti gli eventi più interessanti e proverò anche di scrivere su un giornale. Dunque io sono tanto in grado al Principato, all'Agenti di Monaco per tutto quello lì che ho potuto fare a Monaco. Grazie per la visione!